Continua la protesta itinerante sulla mancanza di lavoro del movimento Quinta Colonna Gallicchio. Così dopo il corteo e manifestazioni lungo la Saurina, il presidio innanzi la sede di guardia Perticara della Total, dove si è registrata qualche tensione, è stata la volta del sit-in in piazza Plebiscito a Corleto Perticara. Mentre in piazza i manifestanti spiegano ai cittadini le ragioni del proprio disagio, noi abbiamo rivolto qualche domanda al sindaco. Ci sono manifestazioni sotto il comune di Corleto Perticara stamattina del movimento Quinta Colonna di Gallicchio. Chiedono a lei un aiuto, un sostegno perché lei sembra retenere tutto questo potere contrattuale nei confronti di Total. Non so se la cosa può farmi anche sorridere a questo punto. Prendo atto che tutte le diciamo le istanze che si sono fatte sinora a Via Anzio e a Potenza si sono trasferite a piazza Municipio di Corleto Perticara. Era una battuta però naturalmente io credo, penso di comprendere le ragioni dei movimenti perché ci sono sempre delle ragioni quanto delle persone si mettono insieme per fare qualcosa, per lo sviluppo, per l'occupazione e quant'altro. Però credo che sia la persona sbagliata alla quale si sono rivolte in quanto io sono un sindaco come tanti sindaci di questo territorio che cerca di dare un minimo di risposta al proprio territorio pur non avendo paraocchi nel senso che sappiamo guardare alle politiche diciamo che vanno oltre i propri convini territoriali però certamente non è come lei ha detto io sono semplicemente forse più responsabile perché questo comune sede del futuro centro quindi di Temparossa quindi con tutte le problematiche connesse a queste risorse degli idrocarburi ma non sono io la persona preposta a dare risposte ad accogliere istanze a livello occupazionale e quant'altro quindi neanche un modo forse oggi che lei mi dà la possibilità per dire ai tanti sindaci o alle imprese che per poter rispondere forse lavandosi un po' le mani ribaltono tutto sul comune di Corleto, sul sindaco di Corleto. Il sindaco di Corleto cerca ma la pena di dare delle risposte per il suo territorio non mi sottraggo al confronto ma credo che non sia io, anzi ne sono più che mai convinta che il comune di Corleto, il sindaco, non è l'ente alla persona giuridica preposta ad accogliere queste istanze evidentemente bisogna rivolgersi a enti sovracomunali con tante parti facendo un tavolo per capire un piano di occupazione e quant'altro. Quindi si può impegnare in qualche modo a creare questo tavolo? Lei ha molte volte ripetuto nel suo intervento il territorio, si parla di unioni dei comuni da qui a qualche anno dovranno essere effettivi, il rapporto con gli altri sindaci rimane anche nell'unione dei comuni Corleto un comune importante, può farsi portavoce magari verso i suoi colleghi che comunque hanno manifestato l'altra mattina anche sulla Saurina con tanto di fascia quindi in maniera ufficiale, può impegnarsi in qualche modo a organizzare questo tavolo con gli enti magari superiori come diceva lei? Guardi non è questione di sottrarsi perché non va parte della mia persona sottrarmi a dei compiti, a delle cose assolutamente, la rassegnazione non alberga nella mia persona, però credo che sia diciamo rispettare in qualche modo il ruolo di tutti, ogni comune rappresentato da un sindaco andrei anche a sminuire la figura di un sindaco i quali sindaci sono molto capaci e sicuramente sapranno portare avanti le ragioni del proprio territorio insieme con altri sindaci perché no ma non certamente io posso essere promotore di altri comuni perché non sono la personalità giuridica per poterlo fare. Lei rappresenta però anche un altro ruolo che è quello di assessore provinciale, ormai da qui a breve forse scompariranno le province ma lei lo si ripete spesso negli interventi del comitato ma in generale voglio dire lei è espressione anche di questo territorio per quanto riguarda il suo mandato a livello provinciale quindi non è che può sottrarsi proprio a questo impegno? Credo che sia, diciamo che è un po' difficile questo ruolo, è anche difficile anche disgiungere sicuramente quello che lei dice, infatti io come assessore provinciale comprendo le ragioni di quello che accade nel territorio e quelle che sono appunto le richieste perché so le varie realtà e quindi come dire in questo senso me ne faccio carico però ecco rivolgersi al sindaco di Corletto, io sono un sindaco come tanti e al di là da venire anche perché lei l'ha detto già prima, la provincia ormai il mio ruolo da assessore provinciale diciamo finisce tra qualche settimana quindi prenderei un impegno come assessore che non potrei mantenere ma non significa sottrarsi alla collaborazione, al non comprendere le ragioni di tutti, lo abbiamo sempre fatto però dobbiamo distinguere i ruoli, le competenze, a ognuno il suo e ogni sindaco ha la responsabilità di rispondere al proprio territorio Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.